Bene, 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 bene. Buonasera, buonasera e benvenuti alla seconda notte di questo weekend che è partito ieri sera. Together with us, tutti insieme qui a Porta Grimaldi per la seconda serata dedicata alla Notte Rosa 2017. Iniziamo, signori e signori, ANAM 2017 dagli anni 2000. Una serata, come abbiamo detto, di moda per quanto riguarda le conciature e di spettacolo. Abbiamo iniziato la grande ma adesso entriamo più dettagliatamente in quello che è il lavoro dei maestri, dei docenti ANAM. Lo facciamo con questo primo quadro, con Gianluca Morelli, conciature che potrete trovare a Ostellato in Via Roma. Allora, signori e signori, accogliamo con un grande applauso Gianluca Morelli. Senti conosciuta prima, ma io ve la voglio far conoscere adesso, ufficialmente, signori e signori, Louise Gardner. Eccola qua! Buonasera, Louise! Buonasera, ecco, dovevo uscire adesso, non prima. Ma prima dovevi spostare lavatrici. Allora, signori, gli anni 90! E vai con i 90! Buonasera, ecco, dovevo uscire adesso. Buonasera, ecco, dovevo uscire adesso. Buonasera, ecco, dovevo uscire adesso. Lady Gaga! Allora, è giunto il momento di conoscere gli amici di ANAM e non solo. E allora vogliamo invitare qui sul palco, accompagnati dal mitico Giordano Conti, il sindaco di Comacchio, Marco Fabri, e le consigliere regionale, Marcella Zappaterra. Eccolo qua! Buonasera, Giordano! Allora, intanto ti do il microfono, vedi? Io giro con due microfoni perché uno serve a te, Porto Garibaldi. Come sta andando questa notte rosa, Marco? Grazie, buonasera a tutti. Un ringraziamento di cuore va a Giordano, a Lana, a tutti coloro che ci credono, i commercianti di Portugia Rivaldi, all'Alba, alla CNA, che vedo l'amico Davide Bellotti che saluto, che è un po' buio ma... Sì, io prego, tra l'altro Marco, mi allaccio al tuo saluto, prego proprio il presidente CNA Cultura, Davide Bellotti, di raggiungere il palco insieme al vicepresidente nazionale Anam Claudio Corvi, se è possibile, che mi raggiungano qui sul palco. Ecco qua. Le hai chiamati e noi le portiamo. Le portiamo. Sì, una notte rosa molto intensa, da Nazioni fino a Quattino, Comacchio, una notte rosa fatta non soltanto di eventi ma anche di tanta cultura, di possibilità di visitare da quest'anno il nostro nuovo museo, che è il Museo del Detto Antico, che insieme alle saline, tra l'altro, sono pienamente fruibili con questi concerti unici. I ringraziamenti, la parte istituzionale, l'ha già fatto il sindaco, io mi associo ai ringraziamenti che lui ha fatto a tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione, consentitemi però di essere qui, non in veste istituzionale, ma come amica, amica anche personale di Tua, di Marco, di Davide, di Corvi, che ormai anche noi abbiamo una frequentazione. Grazie, grazie a Marcella Zappaterra, tra l'altro Marcella io mi aspetto domani che Giordano, come tutti gli anni a te, scriva un messaggio, un sms la mattina e dice buongiorno, grazie Marcella per essere stata presente ieri sera, ricordati che nel 2018 è la data... Credo che sia la dimostrazione della voglia dei nostri imprenditori in mezzo a tutte le difficoltà, a tutta la fatica di voler esserci e di voler dimostrare che questo è un posto vivissimo, è un posto dove le persone vengono e si divertono, ma è un posto dove ci sono persone che con un coraggio tutti i giorni affrontano un lavoro sistematico e un impegno per poter portare avanti. Bene, grazie, grazie Davide Bellotti. Giordano, prima di te facciamo parlare il tuo vicepresidente nazionale, nonché sponsor della manifestazione, guardate, noi non ce l'abbiamo il totem ma ce l'ho io piccolino, Malvi, dico bene? Sì, ho raddoppiato, non sono più solo vicepresidente dell'ANAM nazionale che rappresentiamo 50 scuole in tutta Italia e una delle belle è quella di Ferrara. Cosa devo dire? Io qua a Porto Garibaldi, la signora Zappatero viene dal 2009, io penso di venire da un qualche anno prima. Ringrazio tutti, ringrazio il pubblico che è stupendo, bello e numeroso. Grazie a tutti e spero che vi divertiate anche stasera. Io ci sarò anche il prossimo anno. Grazie a tutti di essere venuti, quest'altranno ancora più numerosi. Giordano, business man, guardalo. Giordano Conti, grazie a tutti gli ospiti per questa serata, per la loro presenza. Grazie, grazie molto. Signori e signori, tuffiamoci dentro la febbre del sabato sera, dentro negli anni 70. Giordano Conti, grazie a tutti gli ospiti per questa serata. Grazie a tutti. in questa coreografia e lo facciamo con il film musicale Hair. Racconta benissimo per appunto questo periodo, quindi sulle notti di Aquarius e Left the Sunshine sentiremo cantare per voi e dal vivo e vedrete le acconciature di Valentina Tomasi. Questi sono gli anni 60 barra 70. e le acconciature di Valentina Tomasi. Grazie a tutti. E allora siamo pronti per rivistare le pettinature insieme alla docente Anna Corinne Catabriga, degli anni 50. Gli anni 50! Gli anni 50! Grazie a tutti. E allora, andiamo? Ci tuffiamo negli anni 30? Signori e signori, gli anni 30 di Luis Garda! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso la passarella non serve più. Sì, sì, la troviamo. Giordano, che dire, l'appuntamento è per il 2018. Ciao a tutti, buonasera e grazie per essere stati con noi. Buona continuazione di questa Notte Rosa 2017, perché non finisce qui. Ciao a tutti, buonanotte.